Un laboratorio creativo che ha coinvolto i genitori e naturalmente i bambini dei divezzi piccoli, una delle sezioni dell'asilo nido comunale Pirillo nella zona orientale di Salerno. Insieme, genitori e figli sotto la direzione delle maestre dell'asilo, Maria Pia, Anna Maria, Valentina Rosa e Valeria, hanno composto un albero di Natale di cartoncino con tanto di stelline. In realtà, tra colla, colori e brillantini, i piccoli alunni della sezione di mezzi piccoli hanno pensato poco all'albero e molto di più ad imbrattare se stessi e i loro genitori. Ma lo spirito della festa era proprio questo, stare insieme per vivere un pomeriggio di allegria e spensieratezza. Poi la sorpresa, ovvero uno scenario natalizio fatto di biscotti e torte, tutto preparato dalle ausiliarie e dalle cuoche dell'asilo comunale. Le corne è talmente buone da scatenare i bambini della classe a caccia di biscotti e di piccole fette di torta, tutti seduti al loro posto a gustare le prelibatezze natalizie. Il Natale dei bambini è per i bambini. Il Natale dei bambini è per i bambini. Il Natale dei bambini è per i bambini è per i bambini. Il Natale dei bambini è per i bambini.